Le foto che vedete alle mie spalle fanno parte di una mostra dedicata al doppio mento, un inestetismo che per alcune persone però può rappresentare anche un disagio psicologico e un ostacolo a rapportarsi con gli altri. Fino ad oggi solo la chirurgia poteva intervenire, ma ad oggi è a disposizione un farmaco, quindi gestito ovviamente dai medici, che può andare a sciogliere il grasso sotto mentoniero. Quindi un'opportunità in più per tutte le persone che magari si sentono a disagio nel proprio corpo e che possono con un piccolo intervento migliorare quella che è la propria autostima. Siamo qui oggi con una chiave di lettura diversa su tutti quelli che possono essere gli inestetismi, così li voglio definire anche se per alcune persone possono rappresentare delle vere e proprie patologie. L'idea alla base di questo evento è di dare dignità agli inestetismi che possono in qualche modo alterare la percezione del sé, rivendicando il diritto delle persone a migliorarsi, a tendere comunque a trasmettere un'immagine che rappresenti quello che vogliono testimoniare. Molto spesso l'immagine ci precede e quindi racconta di noi qualcosa che probabilmente noi vorremmo dedicare solo alle persone che selezioniamo. L'allestimento è una mostra fotografica con un close-up proprio sul doppio mento, perché probabilmente è una zona che è trascurata da tutti noi. Voglio dire che anche i prodotti cosmetici o banalmente è anche la nostra esposizione al sole. Spesso si dimentica di questo ponte di collegamento tra il viso ed il corpo. È una chiave ironica, inusuale, divertente, proprio per cominciare probabilmente a guardare da un'altra prospettiva anche quelli che sono gli inestetismi. Ci saranno con noi diversi relatori, amici, perché è un po' come al bar quando si condivide un'idea e si vuole realizzarla. Ci sarà il dottore Erminio Mastroluca, chirurgo plastico ed estetico, che ci racconterà un po' le cause all'origine del doppio mento e anche la percezione infondata, comune, secondo la quale è legato banalmente solo all'aumento di peso. Presentandoci altresì quella che oggi è l'unica soluzione sul mercato italiano per contrastare questo inestetismo in maniera duratura. È un farmaco per cui questo a dare dignità a un inestetismo come la si dà a una patologia. Altresì ci sarà lo psicologo Luca Mazzucchelli che è vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e direttore della rivista Psicologia contemporanea. Il make-up artist a livello internazionale di Max Factor, Ryan Tolomei, che ci racconterà anche come il make-up può venire incontro alle esigenze di chi vuole nascondere dei difetti, ma ahimè per la zona del collo ha poche speranze. Per cui sarà interessante capire come il make-up può essere sinergico alla medicina estetica non invasiva per dare un aspetto armonico. Si rischierebbe altrimenti, trascurando il collo e mi preme dirlo, di avere un quadro con una cornice inadeguata. Ci sarà anche Sonia Grispo che è una brillante blogger, fondatrice del blog e web influencer, fondatrice di due blog Trend in the City e Beauty in the City. Mi piace questa chiave che lei ci presenterà perché la sovraesposizione dell'immagine nel mondo dei social e del selfie probabilmente ha contribuito ad innescare un meccanismo di alterata percezione della nostra immagine. Erroneamente a quanto si può pensare il doppiamento non è una patologia a carico esclusivo, ad appannaggio esclusivo delle persone in sovrappeso, quanto piuttosto una patologia vera e propria che può verificarsi anche in soggetti normopeso e quindi parliamo di persone non in abbondanza di chili che presentano una esposizione del grasso in regione sottomentoniera. Parlo di patologia e non di inestetismo e questo perché a mio avviso l'idea di avere un inestetismo importante sul contouring del volto ostacola le persone in qualche modo nell'approccio, nella relazione con il proprio interlocutore, motivo per cui tutto quello che ostacola il nostro modus vivendi non può che essere definibile come patologia. Oggi abbiamo un'arma e quest'arma è l'acido desossicolico, è una molecola per quanto questo nome possa essere ridondante, sembra quasi misconosciuto, in verità è una molecola già presente nel nostro organismo, secreta dal fegato, gli acidi biliari riescono in qualche modo a scindere grazie all'acido desossicolico, taluni componenti che introduciamo con la nostra alimentazione e l'allergan è riuscita a creare questo farmaco, questa molecola in qualche modo in laboratorio. Mediante questa sintesi, l'acido desossicolico, riusciamo ad iniettarlo direttamente nella regione sottomentoniera e abbiamo una lisi, una morte del tessuto adiposo. La lisi del tessuto adiposo è data dalla lisi della membrana, nel senso l'acido desossicolico va a rompere la membrana della diposcita e di conseguenza si assiste a riversare la parte della diposcita, il contenuto all'esterno. Questo si traduce in maniera un po' più semplice nell'aspetto citolitico, adipositolitico da parte del prodotto, cioè l'acido desossicolico si usa per sconfiggere ed eliminare in maniera definitiva il grasso sottomentoniero. Parliamo pertanto di una chirurgia in siringa. Io sono un chirurgo plastico, fino a ieri mi occupavo di liposuzioni del collo, ma non tutte le pazienti o i pazienti, perché non è una patologia ad esclusivo appannaggio del sesso femminile, ma anche del sesso maschile. E io fino a ieri l'unica arma che avevo a mia disposizione, l'unica freccia che potevo tirare era la liposuzione, ma non essendo tutti i pazienti in accordo nell'essere sottoposti ad un intervento chirurgico, chi poteva essere più refrattario nel sottoporsi all'intervento, io non avevo delle soluzioni, delle alternative di cura. Oggi invece io ho un'alternativa di cura, che è l'acido desossicolico. Ad oggi è legale utilizzarlo nella regione sottomentoniera, diventa off-label utilizzarlo in altre regioni. Sono certo che questo avverrà probabilmente in futuro. Ad oggi mi rendo conto che quello che ho di fronte è un farmaco, perché parliamo di un prodotto farmaceutico, che è rivoluzionario completamente, unico nel suo genere. Riesce a, in sedute stabilite con la paziente, che possono essere due, tre, quattro, si arriva fino a un massimo di sei sedute. E per esperienza personale vanto di essere il primo utilizzatore in Italia di questo prodotto. È quello che ha avuto più casi in verità in tutta Italia, trattati con l'acido desossicolico. E vi dico che a sei sedute non arriva nessuno. In verità tre sedute sono sufficienti. Quando si va a scegliere la paziente corretta, nel modo più deciso, nel modo più corretto possibile, io credo che le tre sedute possono essere sufficienti per garantire alla persona un risultato meraviglioso, brillante. La percezione che noi abbiamo di noi stessi, del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre competenze, influisce sempre di più su quello che è il modo attraverso il quale noi ci rapportiamo con noi stessi e quindi con gli altri. Se ci sentiamo sicuri, se ci sentiamo a nostro agio e confortevoli nei panni che vestiamo, panni mentali e non, allora riusciamo a essere anche più a nostro agio con le persone che ci circondano. Questo è una cosa importante perché è un meccanismo che sta alla base della nostra autostima. E l'autostima è avere stima di se stessi. Provare a modificarsi interiormente o esteriormente è un gesto d'amore verso di noi. È un tentativo di migliorare, di prendere a cuore, di prenderci cura del nostro biglietto da visita esteriore. E prenderci cura di noi, amarci, significa andare a costruire un piccolo mattone che va poi a creare la parete dell'autostima. Non è sempre vero quindi che cercare di migliorarsi anche fisicamente, di modificarsi, entro certi limiti chiaramente, sia un gesto di vanità o di narcisismo. Anzi, c'è una forma di narcisismo di cui raramente si parla, ma che io credo essere molto molto importante, che è il narcisismo sano. Il narcisismo sano è questo gesto d'amore verso se stessi. Ci sono delle ripercussioni che gli inestetismi possono avere sulla nostra psicologia, sulla nostra dimensione psicologica, perché possono in alcuni tipi di personalità, alcuni inestetismi possono compromettere le nostre capacità relazionali, ad esempio, perché una persona che non si sente a suo agio con se stessa spesso è portata magari a evitare alcuni comportamenti sociali, evitare alcune situazioni. E in questo modo, evitamento dopo evitamento, il rischio è quello di andare incontro a un ritiro sociale, che anche l'OMS dice essere l'anticamera poi della depressione. Ci possono essere delle compromissioni a livello sessuale, nella sfera della sessualità, perché chi non ha un buon rapporto col proprio corpo nudo finisce per vivere il rapporto sessuale con ansia, con agitazione, con senso di inadeguatezza e concentrarsi non tanto sul qui ed ora, ma concentrarsi invece sulla propria adeguatezza, sulla propria performance. E poi ci sono una serie di studi che testimoniano gli effetti psicologici degli inestetismi, in particolare del doppio mento, sulle persone. Il 67% degli intervistati di un campione di un'associazione americana di dermatologia ha sostenuto di avere un impatto psicologico per via del doppio mento, per cui si sentono persone grasse, vecchie, brutte, ai loro occhi, quindi agli occhi dell'interlocutore poi più importante dove si gioca il grosso della partita. Credo che ci sia un rapporto tra mente e corpo molto stretto, per cui se noi andiamo ad agire su una componente o sull'altra, influenziamo anche l'altra. Mente e corpo sono strettamente collegate, sono due facce alla stessa medaglia. Nel mio lavoro io ho imparato a toccare le giuste corde della mente per poter modificare il rapporto che abbiamo con il nostro corpo, però è vero anche il contrario. Modificando il nostro corpo noi possiamo modificare la nostra immagine interiore. Questo lo vediamo molto bene nel caso dei pazienti che vanno incontro a dei traumi anche importanti che compromettono la loro fisicità, la loro estetica. Penso ai gravi ustionati. Queste persone quando si vedono allo specchio, dopo le ustioni, non si riconoscono più. Vanno a modificare quella che è la percezione della loro identità e quindi si comportano in maniera diversa. Così come modificando in negativo il volto di una persona andiamo incontro a una serie di conseguenze, io credo che anche modificando l'impositivo ci possono essere delle ripercussioni positive sul senso di identità della persona. Quindi direi no a prestare il fianco ad interventi chirurgici estetici su personalità psicologiche fragili, chi vuole fermare il tempo, chi ha un'erronea visione della propria fisicità e chi cerca in tutti i modi di raggiungere degli standard promossi dai mass media che sono inarrivabili, ma sì a sfruttare le competenze e gli strumenti della moderna scienza medica che possono aiutarci a avere un migliore rapporto con noi stessi, con la nostra fisicità, quindi con gli altri e con il mondo in generale. Beh, quando parliamo di make-up parliamo anche di tendenze, di trend, di novità e parliamo di contouring. A cosa serve il contouring? Nient'altro che ad andare a correggere, limare, assottigliare, scolpire, strutturare quelle parti del viso, anche se oggi si parla di contouring corpo molte volte, ma fermiamoci al viso è sufficiente, andare a togliere quello che generalmente nell'ideale maschile e femminile è un po' fastidioso. Io stesso quando faccio degli shooting fotografici la modella mi dice dammi un po' di terra in alcune zone perché voglio risultare più strutturata, voglio che il viso si stacchi dal collo. Beh, quale miglior matrimonio oggi? Abbiamo il make-up da un lato e credo di poter dire che sono uno degli specialisti che esiste, dall'altro abbiamo un aspetto più clinico e quindi facilitare la vita molte persone che magari vivono questa cosa, questa imperfezione, inestetismo, come un problema, come una fonte di insicurezza. Quindi perché non usare make-up e clinica insieme, senza abusare nell'uno o nell'altro, però si può ottenere un risultato che direi perfetto. Siamo definiti la generazione dei selfie, questo perché la nostra arma principale è uno smartphone e quello di cui voglio parlare oggi è il fatto che è un'arma a doppio taglio perché se da un lato ci permette di esporci sui social arrivando veramente in milioni e migliaia di persone ogni giorno sui loro dispositivi, dall'altro è un'arma verso noi stessi perché mette a dura prova la nostra sicurezza e un momento in cui a distanza mano-naso ci ravviciniamo veramente tanto al nostro viso e notiamo tantissimi difetti o piccoli dettagli con i quali magari prima non facevamo troppi conti che adesso diventano quasi dei problemi insormontabili. Cioè il problema fondamentale è che comunque molto spesso l'immagine di noi che diamo al grande pubblico, comunque ai follower, a chi ci segue è di forma da quella reale, quindi si va un attimo a dover valutare se esporci come siamo quindi nella versione più reale di noi o in quella che magari passa per le app di fotoritocco ed è di forma appunto da quella reale. È un compromesso, non vuol dire cedere alla chirurgia o agli interventi per camuffarci o altro ma convivere con noi stessi ed intervenire nei piccoli difetti in modo tale da essere più sereni nel momento in cui ci esponiamo al grande pubblico e ci sono per fortuna adesso delle soluzioni anche meno invasive di interventi chirurgici drastici che possono risolverle e questa è una cosa molto bella.